Senz'altro un discorso che presenta degli spunti da analizzare in modo approfondito. Noi ci siamo confrontati nel corso di questi anni con tutti, quindi come ovvio che sia ci confronteremo con il presidente Macron. Spunti che a nostro avviso sono interessanti, sono la volontà di instaurare una carbon tax, una web tax, battaglie su cui il movimento si è speso sin all'inizio di questo mandato, così come ci sembra quanto mai auspicabile l'idea di ripartire dal basso con delle consultazioni popolari sul futuro dell'Europa perché finora troppo spesso i cittadini sono stati soggetti passivi e non attivi dell'integrazione europea e del percorso che ha contrassegnato questi anni. Abbiamo però anche notato un'assenza di decisioni, non delle parole così forti come aspicavamo, sulla lotta ad esempio ai paradisi fiscali, così come al dumping sociale e salariale che sta erodendo la coesione all'interno dell'Unione, all'interno dell'Eurozona stessa ma anche all'interno dell'Unione a 27, a 28.